Saga a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Jurassic World Dominion ha concluso, almeno per ora, la serie cinematografica di Jurassic Park e Jurassic World. Il dominio non è però privo di aspetti poco chiari e che non si collocano con facilità nel canon della saga. In particolare, in questo nuovo video della rubrica Jurassic Park Lore, andremo ad esaminare proprio uno di questi aspetti un po' contorti, ossia ciò che lega la Biosyn e il suo santuario a Isla Sorna, il sito B. Prima di iniziare vi ricordo di seguirmi anche sui social, basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. Tutto questo video trae origine da una singola frase di Jurassic World Dominion, frase che viene pronunciata con una certa nonchalance da Ramsey Cole, l'addetto alle pubbliche relazioni della Biosyn. Cole dice che i primi dinosauri accolti presso il santuario Biosyn tra le Dolomiti provenivano proprio da Isla Sorna. Che cosa significa? Significa che la Biosyn ha prelevato i dinosauri ancora presenti sul sito B e li ha portati nella sua struttura alpina. Stando a quanto riferito dal portale ufficiale DinoTracker, la compagnia di Louis Doxon cominciò quest'opera di trasferimento da Sorna già prima del 2018, quindi prima della fuga dei dinosauri dalla Magione Lockwood. Questa informazione è molto importante. Prima del 2018 la Biosyn non aveva ancora ricevuto il via libera nella gestione delle specie idee estinte da parte del governo degli Stati Uniti, quindi è plausibile che abbia agito nell'illegalità o comunque in segretezza. Torniamo un attimo indietro nel tempo agli eventi di Il Mondo Perduto, secondo capitolo della saga giurassica. Dopo l'incidente accaduto a San Diego, nel timore che potessero verificarsi di nuovo episodi simili, il governo americano e quello del Costa Rica decisero di rendere Sorna un vero e proprio santuario dei dinosauri, vietando l'accesso a chiunque senza eccezioni. Tale norma era ancora in vigore ai tempi di Jurassic Park 3 e vi rimase fino all'ascesa di Simon Masrani e all'avvio dei lavori per il Jurassic World. A quei tempi alcuni dinosauri di Isla Sorna vennero condotti su Isla Nublar, andando a costituire le prime attrazioni insieme ai dinosauri già presenti su Nublar. A quanto pare, l'operazione di trasferimento verso il Jurassic World non svuotò completamente Sorna. Diversi esemplari rimasero a vivere in libertà sul sito B. A seguito dell'incidente in Dominus, Isla Nublar venne dichiarata zona inaccessibile al pubblico, idem Sorna ovviamente. Il fallimento della InGen potrebbe aver spinto la Biosyn ad agire, cominciando quindi ad organizzare delle spedizioni segrete su Isla Sorna, nell'ottica di individuare le specie da trasferire nel suo santuario in costruzione. Qui sorge però un problema. Non a caso il video si intitola Il problema Sorna in Dominion. Sorna era appunto un'area ad accesso vietato. A quanto sappiamo era tenuta sotto controllo, pattugliata, sorvegliata. Eppure la Biosyn è riuscita non solo a recarsi in loco, ma addirittura a catturare alcuni dinosauri e trasferirli poi dall'altra parte del mondo. Per una missione del genere servono diverse cosette. Decine di uomini addestrati ed equipaggiati. Gabbie e mezzi di trasporto per creature di grandi dimensioni. Una nave da carico, non dissimile all'arcadia vista in Jurassic World Fallen Kingdom. Insomma, passare inosservati non sarebbe proprio una passeggiata, nemmeno per una compagnia abituata alla segretezza come la Biosyn di Dogson. Possiamo immaginare che il caro vecchio Dogson abbia lautamente pagato il silenzio delle autorità del Costa Rica. Le capacità finanziarie non gli mancano di certo. Però mi sembra che in questo caso, con la buona intenzione di non lasciare Sorna totalmente fuori dai giochi, Dominion abbia fatto il passo più lungo della gamba, a livello di lore e di logicità delle scelte. Va segnalato che la Biosyn ha dimostrato per anni un particolare interessamento a Isla Sorna, e per quanto è stato fatto sul sito B. Sempre sul sito di NoTracker è possibile leggere una comunicazione riservata, in cui Dogson dà ordine di cancellare tutti i documenti relativi alle azioni illegali condotte dalla Biosyn, partendo dalla corruzione di Dennis Nedry arrivando sino all'infiltrazione su Sorna nel 1999. In quell'anno vennero infatti condotti gli esperimenti segreti che portarono alla creazione delle specie illegali, ossia spinosauro, anchilosauro, ceratosauro e gli altri. Dogson quindi era ben consapevole di cosa è accaduto su Sorna tra gli eventi di Il Mondo Perduto e quelli di Jurassic Park 3. Ciò mi fa pensare che la Biosyn avesse pensato a lungo di sfruttare i dinosauri di Isla Sorna per i propri scopi, magari puntando proprio a un loro trasferimento dall'isola verso qualche struttura della Biosyn stessa. Credo che qui si senta l'eco di quanto accade nel romanzo di Il Mondo Perduto, in cui Dogson si reca proprio su Isla Sorna per recuperare delle uova di dinosauro, con l'intento di rubarle e usarle per rilanciare la sua compagnia. Quindi, ricapitolando, dopo il fallimento del Jurassic World, non sappiamo esattamente quanto dopo, ma sicuramente prima del 2018, la Biosyn ha cominciato a trasferire alcuni dinosauri da Sorna alla sua vallata nel cuore delle Dolomiti. Tra questi dinosauri vi erano sicuramente Buck e Do, l'iconica coppia di tirannosauri di Il Mondo Perduto, che appaiono anche alla fine di Jurassic World il Dominio in compagnia di Rexy, il T-Rex di Nublar. Proprio la coppia di Rex, così come anche i veloci Raptor di Jurassic Park 3 e quelli di Il Mondo Perduto, vennero avvistati in Nord America prima di Dominion. Forse erano scappati durante il trasferimento da Sorna alle Dolomiti? Possibile, anche se ciò getterebbe dei dubbi sulle capacità operative della compagnia di Roxxon. Insomma, perdersi dei tirannosauri e dei veloci Raptor non è proprio il massimo. Credo però che gli avvistamenti riportati su DinoTracker siano stati inseriti soprattutto per confermare l'avvenuto trasferimento da Sorna, al di là delle improbabili fughe. In tutto questo resta il fatto che qualcuno avrebbe dovuto accorgersi delle operazioni della Biosyn sul sito B. Pensiamo anche solo al collettivo ProDinosauri costituito da Claire Deering, ossia il Dinosaur Protection Group. Giusto per fare un esempio. Lasciando un attimo da parte tutta quella che è la lore del nostro amato franchise giurassico, le parole di Ramsey Cole, che possono sembrare alla fine un dettaglio secondario, dimostrano come le saghe cinematografiche vadano pianificate per bene sin dall'inizio, onde evitare errori di coerenza o creare situazioni problematiche a livello narrativo. Universal si è impegnata molto nel ricollegare gli eventi della prima trilogia con quanto accaduto invece nella seconda, tornando anche indietro per dare maggiore contesto ai film precedenti. Pensiamo appunto a tutta la vicenda delle ricerche segrete precedenti a Jurassic Park 3. Per questo motivo trovo ancora più fastidioso, tra virgolette, il fatto che una singola battuta di un film vada un po' incasinare le cose. Sembra quasi che la battuta sia stata inserita giusto per citare Isla Sorna. Tra l'altro quel furbacchione di Trevor Rowe, il regista di Dominion, prima dell'uscita del film aveva stuzzicato noi fan mostrandoci una cassa da trasporto embrioni o simili con scritto sopra Sito B. Forse in uno dei primi concept di Dominion sarebbe stata inclusa a qualche scena inerente a Sorna. Magari nell'introduzione del film avremmo visto qualche attività della Biosyn legata proprio al Sito B. Chissà. Quella dannata cassa non è apparsa nemmeno nella versione estesa di Dominion, quindi non saprei proprio cosa dirvi in merito. In conclusione, sorge in me un'amara constatazione. Una constatazione che mi porto dietro sin da quando vidi Dominion al cinema. Si poteva e si doveva fare meglio. Ne ho già parlato ampiamente qui sul canale. Ho pubblicato le recensioni sia della versione base che di quella estesa, a cui vi rimando per un parere più completo. L'inserimento della Biosyn mi è piaciuto. Alla fine era sempre rimasta sullo sfondo, quindi è stato bello vederla in azione. Tuttavia forse si è calcata un po' troppo la mano riguardo alla compagnia di Doxon, rendendo la protagonista di azioni e mosse che mal si incastrano nel fluire degli eventi. Questo è il rischio che si corre quando si vanno ad aggiungere avvenimenti a posteriori. C'è la possibilità di creare contraddizioni non di poco conto. Che dire ragazzi, non mi resta che chiedervi la vostra opinione in merito a questa vicenda sorna, Biosyn, azioni segrete ma non facili da fare. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nella sezione commenti. Se questo video è stato di vostro gradimento lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, perché no attivate la campanella. Se volete supportare le mie creazioni qui su YouTube potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente sotto al video, in alternativa a Paypal e TP, link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!